ci siamo oggi 7 aprile 2017 e abbiamo trovato questo bellissimo ceppo di pleurotus questi li dedico a te turi la prima ceppetta di oggi bellissimi e continuano i ritrovamenti guardate questi due piccolini belli freschi appena nati attenzione qui abbiamo la crescita di un altro fungo guardate il ritrovamento di una nuova specie fungina guardate la particolarità di questo fungo che ha degli alveoli anziché le lamelle ok lo stesso fungo due ore dopo vi lascio per adesso e ci vediamo al prossimo clip ciao